Altri 106 casi che fanno salire il totale a 2.120. Sono questi i numeri di positività al covid-19 registrati in Abruzzo dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'istituto zoo profilattico di Teramo e l'università di Chieti. Rispetto a ieri dunque si registra un aumento di 106 casi su un totale di 1.101 tamponi, 9,6% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 83 su un totale di 833 tamponi analizzati. 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 54 in terapia intensiva mentre gli altri 1.355 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 206 pazienti deceduti, 190 sono i pazienti guariti di cui 157 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 33 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 19.441 test di cui 12.858 sono risultati negativi. Nel totale dei casi positivi 218 si riferiscono alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 441 alla ASLE Lanciano Vastocchieti, 869 alla ASLE di Pescara e 592 alla ASLE di Teramo. Dei 106 casi positivi al covid-19 registrati oggi, 5 fanno riferimento alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 48 alla ASLE Lanciano Vastocchieti, 33 alla ASLE di Pescara e 20 alla ASLE di Teramo.